Abbandonano per dieci giorni le università o gli studi di architettura paesaggistica più importanti al mondo per disintossicarsi dallo stress quotidiano e lanciare nuove proposte di utilizzo degli spazi. In questi giorni, sette gruppi guidati da architetti internazionali sono al lavoro nella borgata mineraria dell'Argentiera nell'ambito del progetto Landworks Sardinia. Prima studiano il paesaggio e poi realizzano installazioni e percorsi, sfruttando le architetture esistenti. L'idea che stiamo realizzando è quella di un percorso tra la vecchia laveria e la spiaggia. Alla fine le pietre che utilizziamo è come se prendessero il volo creando un paesaggio sospeso. Idee per uno sviluppo turistico ecosostenibile, al lavoro oltre 100 persone, il doppio della popolazione residente. Anche se può sembrare impossibile un progetto si può ideare e realizzare in pochi giorni, basta provarci. Questo luogo dove le tracce del duro lavoro dell'uomo sono evidenti è un'ottima opportunità per far nascere nuove idee. Nell'equipa anche una decina di rifugiati del centro di accoglienza di Alghero. Con poco ma molta voglia di fare abbiamo veramente riscoperto in qualche maniera la voglia di fare che c'è nelle persone di questo luogo. Arti, professioni ed esperienze diverse si fondono con la storia di una borgata alla ricerca di un turismo alternativo alla formula dei villaggi vacanze. Grazie.